Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. I repubblicani vincono anche le elezioni di medio termine e ottengono la maggioranza alla Camera e al Senato. Michael Moore lo aveva detto, ma nessuno lo era stato sentire. «Non fidatevi dei sondaggi», affermava, «l'umore della gente è diverso. Gli americani voteranno Donald Trump come una bottiglia Molotov da gettare nel sistema politico americano. E l'esplosione non poteva che essere più forte». I repubblicani tornano al potere con la vittoria più schiacciante dal 1984. La spiegazione del mistero che segna il funerale del mainstream occidentale sta nel fatto che Trump ha parlato a un'America profonda, che non è stata nemmeno consultata dai sondaggisti. Quella che non è mai andata a votare e che è disgustata dall'elite che si sono alternate il potere in questi ultimi decenni. Perfino i latinos, che avrebbero avuto da temere dalle dichiarazioni di Trump, hanno in gran parte votato per lui, così come i giovani. L'insofferenza popolare contro la casta washingtoniana è divenuta predominante su ogni altra considerazione, ed è stata decisiva. Stiamo assistendo dunque, nello stesso tempo, a una sonora lezione alle classi politiche dominanti, incapaci non solo di affrontare la crisi che le travaglia, ma anche di uscire dalle illusioni che le accecano. Gli adoratori dell'America non si sono accorti che essa non è più quella che loro si figuravano. È migliore o peggiore? Non lo sappiamo al momento. Certo è che è in crisi. C'è da sperare che sia migliore dell'establishment che ha appena sonoramente sconfitto. Mentre le prime dichiarazioni di Hillary Clinton dopo la sconfitta tardano ad arrivare, la vittoria di Donald Trump è un vero e proprio shock per il mondo finanziario. Non è una notizia segreta che la candidata di Wall Street era Hillary Clinton, che aveva promesso di favorire il business finanziario con nuove concessioni. Alla notizia le borse hanno reagito con fortissime perdite, rientrate però in parte con il passare delle ore. L'unico mercato con segno positivo è quello di Mosca. L'indice giapponese Nikkei ha perso oltre il 5%, ma ha evitato il tracollo, mentre l'indice cinese Hang Seng ha perso circa il 2%. E mentre l'oro vola, in Europa i mercati fanno trasparire un atteggiamento più attendista. Le perdite sono state mediamente inferiori al 2%. Il nodo della questione è capire se le dichiarazioni isolazioniste di Trump in campagna elettorale seguiranno i fatti. Il trattato TTP con l'Europa e TPP con i paesi asiatici saranno abbandonati? Il trattato NAFTA con il Messico sarà ridiscusso in senso più isolazionista? Un'America che abbandona il dogma libero scambista è il terrore dei mercati finanziari, ma è il sogno dell'uomo della strada americano impoverito dalla globalizzazione. Wall Street e Main Street attendono con ansia una risposta definitiva. Donald Trump, subito dopo la vittoria, ha annunciato che gli Stati Uniti d'America non entreranno in conflitto con nessun paese straniero. Vladimir Putin, congratulatosi per la vittoria, si augura che i rapporti russo-americani possano uscire dalla crisi. Il presidente russo si dice sicuro che il dialogo fra Mosca e Washington, basato sul rispetto reciproco, risponde agli interessi dei due paesi. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso l'auspicio di poter lavorare con Trump per rafforzare le relazioni tra Cina e Stati Uniti. La formula è la medesima, secondo i principi del rispetto reciproco. Xi ha ricordato che Pechino è la prima economia dei paesi in via di sviluppo e Washington è la potenza più sviluppata. Entrambi i paesi sorreggono la speciale responsabilità di mantenere la pace e la stabilità nel mondo. Secondo l'agenzia di stampa cinese Xinua, l'elezione di Trump dimostra che la maggioranza degli americani si sta ribellando l'elite politiche e finanziarie statunitensi, mentre gli altri media di Stato continuano a battere sullo stesso punto. La democrazia è malata. Nel frattempo, il Consiglio di sicurezza sudcoreano si riunisce in seduta straordinaria per valutare le conseguenze della vittoria di Trump, mentre i cittadini americani assaltano il sito dell'immigrazione del Canada che diventa irraggiungibile e si registrano disordini in California, Oregon e San Francisco. Piccata la prima reazione dell'ex presidente messicano Fox. Ovviamente il Messico non pagherà per il suo maledetto muro. Se a Trump venisse veramente in mente di costruire il suo muro, scoprirà che noi messicani siamo come i nostri peperoncini, piccoli ma piccanti, ha sottolineato l'ex presidente. In Europa, le reazioni politiche oscillano tra soddisfazione e preoccupazione. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e quello della Commissione, Jean-Claude Juncker, si sono congratulati con Donald Trump in una lettera congiunta, ma il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha espresso la speranza che Trump rispetti i diritti e le regole fondamentali. Per il presidente francese, François Hollande, questa elezione americana apre un periodo di incertezza. Bisogna essere vigili e sinceri con il partner USA, ha precisato Hollande, congratulandosi come naturale che sia. Prudente è anche il ministro degli esseri tedesco, Fran Wolterstein e Mayer, per il quale, sebbene le elezioni americane siano andate diversamente da quanto molti avrebbero desiderato, dobbiamo accettare l'elezione di Donald Trump. Ora nulla è più facile, ma molto diventa più difficile. Gran Bretagna e Stati Uniti rimarranno invece partner stretti e vicini. A dichiararlo è la premier britannica Theresa May, che si augura una relazione speciale fra i due paesi. Non manca l'appoggio del segretario generale della Nato, James Stoltenberg. L'impegno alla difesa collettiva resta assoluto e garantito, mentre Israele accoglie con soddisfazione l'elezione di Donald Trump. «È finita l'era dello Stato palestinese», ha commentato Naftali Bennett, ministro del governo Netanyahu, che mette così in allerta l'intera regione medio-orientale. Per il ministro israeliano, la vittoria di Trump, è una formidabile occasione per annunciare l'immediata revoca del concetto di uno Stato palestinese nel cuore della nostra terra, che va direttamente contro la nostra sicurezza e contro la giustezza della nostra causa. Una giornata importante per il popolo Navalmolina, è la giornata delle elezioni presidenziali. Abbiamo deciso di venire prima dello svolgimento delle elezioni, perché per noi Clinton o Trump non cambia assolutamente nulla. L'obiettivo che abbiamo è quello di liberare il nostro territorio e tutti i territori dalle servitù militari. Quindi questo era il momento migliore per far capire al nuovo presidente degli Stati Uniti che verrà che a prescindere dal colore politico noi siamo contro le strutture militari, quindi è meglio che le prendano e se le riportino a casa. Appunto, questa passeggiata popolare, col quale vogliamo... ... 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